Ragazzi qualche pazzo psicopatico mi ha rinchiuso all'interno di questa casa e come vedete la porta è totalmente chiusa Se volete aiutarmi preordinate il libro qua sotto nella descrizione No no sto scherzando non c'entra nulla il libro Quel che dovremmo fare adesso ragazzi sarà risolvere tantissimi indovinelli Quindi come vedete già ci sono delle leve qua che al momento non cliccherò E là ci sono invece delle frecce perché prima dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare Quindi esploriamo, diamo un'occhiata in giro in tutta quanta la casa Vediamo se ci sono delle cose nascoste, dei pulsanti, delle ceste Ci sarà sicuramente, ecco tipo questo pulsante non serve a nulla Un dispenser, c'è qualcosa qua, c'è una porta Una porta che ci porta al bagno, ok in qualche modo ragazzi dobbiamo riuscire a uscire da qua Qui ti porta da qualche parte questa porta? No non ti porta da nessuna parte la porta Oh c'è un altro pulsante però Ho sbloccato qualcosa Ho sentito che ho sbloccato qualcosa Quindi questa è una vera e propria escape room Questa cesta è chiusa, qua si può entrare? Oh! Ok si può entrare E abbiamo tre porte diverse, tutte e tre chiuse Ok Bene bene quindi probabilmente qua ci dovremmo ritornare Nel camino c'è qualcosa di nascosto? Non sembrerebbe Devo essere, oh ecco infatti, devo essere molto attento e vigile a ogni piccolo dettaglio della mappa Quindi devo cercare di entrare ovunque praticamente Qua non ti portano a nessuna parte, ok C'è qualche pulsante nascosto? Direi di no Questa stanza è inutile Questa è chiusa Qua un altro pulsante, ok Quindi sto trovando Sto trovando tanti pulsanti E ogni singolo pulsante fa qualcosa Perché sento un din ogni volta che lo schiaccio Qua non c'è nulla Qua si può salire C'è un libro Oh, ok Libro misterioso Certe volte il libro è la chiave per trovare quello che ti serve Ok, non in questi casi mi sa Clicchiamo tutto ragazzi Clicchiamo e apriamo ogni singola cosa che troviamo Qua ci sono stato? No, c'è un cabinato con... Cos'è questo? Non lo so È chiuso? Ok Sicuramente in qualche modo devo trovare la combinazione di queste frecce Però non andrò a tentativi fino a quando non so la combinazione Questo non si apre Ci sono degli orologi Un dipinto che non mi fa entrare, ok Il bagno E poi c'è il piano di sotto Che è... Ok, è proprio un basement americano praticamente Un altro dipinto Posso entrare? No, non posso entrare Barili Oh, ok Un arco Pulsante Si è aperto qualcosa Ragazzi, ho sentito che si è... Ok, terracotta Ho sentito che si è aperto letteralmente qualcosa Tipo una porta forse Questo cos'è? Un tavolo da biliardo Ma che figata Qua ci sono dei colori Può essere piazzato Ah, ok Quindi lo devo mettere nel rosso Ok Quindi questo è un altro dei tanti puzzle Bene La porta mi è sembrato che si sia aperta quassù Forse qua Oh Ok Ho attivato la leva Ma non so sinceramente che cosa ho attivato con quella leva Questi si possono aprire? No, non si possono aprire Questa è ancora chiusa Qua non c'è nulla Ok, ci sono delle leve Ah, ecco Ho attivato tutte e quattro le luci Ora devo attivare le leve C'è qualcosa di nascosto Oh, sì Aspetta Ah Spenta Accesa Spenta Accesa 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 Spenta Spenta Quindi tecnicamente Quella combinazione era per le leve Dovrebbe essere così Ha funzionato Abbiamo sbloccato un altro indizio Un altro puzzle Fantastico Però non ha aperto nulla Sì, no, 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 no Ha aperto questo Aspetta Io ho già visto della lana colorata Dove l'ho vista? Lana colorata Lana colorata No, quella non è lana colorata Aspetta Qua ci sono altre botole Oh Aspetta C'è un buco No Cos'è? Un labirinto? Ok Passaggio segreto di un labirinto Lo dovremo esplorare tutto Perché Sicuramente ci sono tante cose nascoste Quindi diamo un'occhiata a tutto quanto è il labirinto Anche se troviamo la soluzione purtroppo Lo dobbiamo esplorare in ogni singolo angolo Sapete bene che il modo migliore per trovare la soluzione nei labirinti è andare sempre a sinistra E infatti mi sento proprio che abbiamo appena trovato la soluzione Bam! Che vi ho detto ragazzi Voi non vi fidate mai di me Io ve lo dico sempre Andate sempre a sinistra E nei labirinti riuscirete sempre a trovare la soluzione e a uscire Ok Però come vi dicevo devo comunque esplorarlo tutto Ci potrebbe essere qualcosa di nascosto Ok Non c'era nulla di nascosto Però abbiamo aperto qualcosa Fammi dare un'occhiata qua Niente Ho aperto qualcosa ne sono sicuro Pressure plate Questo barrile l'ho già visto Qua ci sono entrato? No Cesta è chiusa Ok Giallo Questo non si può aprire Una zappa che può rompere le trapdoor di ferro Ok E ok Anche quest'altro Delle forbicine che possono rompere il tappeto blu Accendino Ok qua non pensavo sinceramente di trovarci qualcosa Fantastico Quindi Zappa che può rompere le cose di ferro Le trapdoor Queste non sono trapdoor Quindi non posso rompere di certo queste Le trapdoor Dove ho visto una trapdoor? C'era una trapdoor? Sono sicuro che c'era una trapdoor Eh ecco la trapdoor di ferro Ok L'ho aperto E ho ottenuto un altro blocco di terracotta Andiamo a posizionarli Mi piace che ogni singolo puzzle è misto e mischiato a un altro Quindi devi risolvere prima uno per poi ottenere l'altro e così via Ok Però resta il fatto che io ho sentito una porta aprirsi E non ho la più pallida idea di dove si sia aperta Qua si può entrare? Ricordatevi in questi tipi di mappe bisogna controllare sempre tutto E bisogna tornare indietro più e più volte Nei propri passi Ok qua non c'è nulla Però ci sono tantissimi fiorellini Sto notando che ci sono veramente tanti fiori e tanti vasi in giro Qua c'è un altro Oh si è aperto questo forse No direi di no Ok Oh E' questo? Mysterious Il libro che c'ho si chiama Vuoi vedere che Ok Una candela? E che cavolo ci devo fare con la candela? Può essere piazzata sulla lana rossa Ok So esattamente Ma questo l'ho già aperto vero? Sì Ok so esattamente cosa devo fare con la candela La lana rossa Quindi devo completare i vari colori Devo completare quello E poi devo completare anche questo Quindi questa candela sicuramente va messa qua Ok E la posso accendere? Sì Ok Significa che devo trovare altre candele Allora questi orologi sono strani Perché come vedete hanno tutti un colore diverso Quindi secondo me ha a che fare anche con quello In un modo o nell'altro Poi aspetta Questo Era il tappeto blu Dove? Dove ho visto il tappeto blu? Tappeto blu? Tappeto blu Ecco il tappeto blu Ah sono le frecce queste Quindi la direzione giusta è questa Devo andare a Destra Alto a sinistra E basso Ok Destra Alto a sinistra Basso Quindi Destra Alto a sinistra Basso Le faccio 3 a 3 Perché altrimenti non mi ricorderò mai Tutta la combinazione Basso a destra Basso a sinistra E Sinistra Alto Poi alto a destra E destra Oh Ok Però non ho la freccia Devo palesemente sparare qua Ma non ho la freccia Dov'è la freccia? Devo trovare una freccia C'è qualcosa di Nascosto qua Sto tavolo non mi convi Non ci credo Ci sono dei barili Ci sono dei barili qua Oh ce n'era uno solo Ok ce n'era uno solo Che si mimetizzava perfettamente E ho trovato un altro blocco di terracotta Che adesso andremo a mettere Qui nel nostro puzzle E il verde Ce ne servono due Ok Ok Interessante Interessante Mr. Watson Qua ho controllato tutto vero? Non è che c'è un pulsante No Questa cesta è chiusa Non me la fa aprire Qua Ok Pensavo ci fosse un passaggio segreto Quindi no Pulsanti Ceste No Direi di no E invece il tavolo da biliardo Non è che contiene qualche Cesta segreta? Come posso andare avanti? No Non ci credo Non ci posso credo Ok Abbiamo trovato anche la terracotta Magenta Che la mettiamo qua Ci serve soltanto la celeste Dove posso trovare la celeste? Ce l'è Questo l'ho aperto? Però aspetta Posso Ok Non lo posso schiacciare Allora Potenzialmente mi serve La 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 Aspetta Aspetta un attimo Mi ero dimenticato Ok Ho trovato una chiave Una chiave Una chiave C'era una cesta chiusa Era qui? No La cesta chiusa La cesta chiusa La cesta chiusa Eccola qua Questa Ho trovato una leva Che può essere piazzata Su un blocco di ferro Non c'erano altre ceste chiuse? Sì 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 Eccola Ok Abbiamo trovato anche L'altra terracotta Quindi abbiamo sbloccato Un altro livello Mettiamola qua Fantastico Eee Bam Ehm Ok Altri colori Vuoi vedere che ha a che fare Con i colori Del Degli orologi? Blu No Non c'è il blu Allora Redstone Rosso Ok Copper Copper Oro oro Smeraldo smeraldo Diamante diamante Boh Vabbè qua ci ritorniamo dopo Eee Cerchiamo di capire se posso aprire delle altre ceste Qua c'era una cesta Sì Piccone Può rompere Cracked stone bricks Ok Quindi la pietra La pietra rotta E dov'è la pietra rotta? Qua avevo già aperto tutto Eccola E' quella Rompi 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 Questo Pressure plate che può essere piazzata su Il polished blackstone Porca miseria ragazzi Sto andando in tilt Cos'è? Dov'è? Questo è nederite? Sì Questo è nederite Non c'entra nulla Credo che la blackstone a questo punto si possa trovare in cucina Era qua? No Questo è il ferro però Ok Ho aperto qualcosa Cosa ho aperto? Dov'è la blackstone? Scusa Polished blackstone Questo è un tappeto Non c'entra nulla Deve essere di qua Oh Aspetta ma questa porta Ehi ma qua c'erano degli scaffali prima Ok Ho trovato un'altra candela Fantastico Candela magenta Quindi a quante candele siamo? Due? Siamo a due candele Cioè vi rendete conto? Ce ne sono ancora tantissime da trovare Non ci credo C'è un pulsante Cosa ho aperto? Ho aperto qualcosa ma non ho capito cosa No ragazzi ho capito Ho capito L'avevo già fatto un minigioco del genere una volta Guardate Il di... Allora La redstone vuole l'alberello di oak Quindi dobbiamo cercare Questo è redstone Si Togli questo alberello Che questo è della giungla E quello della giungla lo dobbiamo mettere nello smeraldo Quindi quello della giungla va qui Poi quello della caccia Se non sbaglio la caccia è questa Va nel diamante Che è questo Ok Adesso c'ho birch Quindi quello di birch Dove lo devo mettere? Quello di birch Lo devo mettere nel... Nel copper Quindi nel rame Poi c'ho spruce Che invece va messo Nell'oro E nell'oro sicuramente ci sarà Che sarà qua da qualche parte Ecco E nell'oro invece c'è quello di oak Quello di oak lo devo mettere Se non mi ricordo male In quello di redstone Non ci credo Sono un genio ragazzi Però tutti sti rumori che sento Cosa stanno sbloccando? Uh Ho sbloccato questo Ok Candela gialla Bene Stiamo facendo dei progressi Fantastico Il mio super cervellone Sta lavorando C'ho il cricetino dentro la ruota Che gira nel cervello Ok Però ho aperto un'altra cosa No mi era sembrato rivedere un buco Ho aperto un'altra cosa prima Questa l'ho aperta Sì Qua Oh Aspetta Che cos'è? Ehm Sono gli orologi Il rosso è alle 6 Quindi Rosso 6 Poi Giallo 10 E 30 Lo sapevo che questi orologi servivano a qualcosa Devo mettere il verde alle 7 e 30 Ehm Così presumo che vada bene no? Cioè è alle 7 Come faccio a metterlo alle 7 e 30? Dov'è il rosso? Non ho ancora trovato la freccia tra l'altro Allora Il giallo Alle 10 e 30 Quindi così Alle 10 Non posso mettere i 30 Non posso mettere i minuti Wow 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 E questo cos'è? Si è sbloccato un'altra stanza Ok Facciamo con calma Prima gli orologi E poi faccio tutto il resto Qua ce ne dovrebbero essere altri due Giusto? Dove sono? Eccolo qua Il blu Il blu alle 6 Ok spero che non sto sbagliando Non lo so Sto sbagliando secondo voi E il rosso No il rosso alle 6 Il blu alle 3 Ok fermi tutti Allora quindi E invece il rosso alle 6 Si è aperto qualcosa qua vicino Ragazzi ho sentito la porta Era qua? No Era su Era su Era su Era su Era la porta di ferro Fammi vedere Dove era la porta di ferro? Era di qua Vediamo Sbang E abbiamo ottenuto un'altra candela Candela Lime Fantastico Oh stiamo andando veramente alla grande ragazzi Sinceramente pensavo peggio Pensavo molto peggio O sono un genio io O questa mappa non è così tanto difficile Ok Ne restano altri due Uno tra l'altro L'ho indovinato Mi sa Devo prendere i fiorillini I fiori però Non i sapling Quindi questo è un altro fiore C'era qua Ecco qua un altro fiore Cioè vabbè un cactus però Eeeh Dov'è che l'avevo sbloccato? Qui Quindi devo mettere Il rosso Non so dove sia il rosso Quindi facciamo così Il bianco qui Il rosa qui Mi serve il fiorellino rosso Fiorellino rosso Fiorellino rosso Non è qui No qui neanche E' qui? No E' qui No nemmeno Che cavolo è il rosso? Ah eccolo qua Tecnicamente mi dovrebbe sbloccare un'altra candela Si si è attivato qualcosa Uh qui? Ok Candela arancione Allora so come ottenere l'ultima candela Credo Il problema è che Non ho la più pallida idea di dove ottenere la freccia Perché L'ultimo indovinello È palesemente questo Devo tirare una freccia Contro questo target Ma non ho la freccia Ho l'arco Ma non ho la freccia Devo mettere a cucinare qualcosa forse? Qua non ci posso entrare Dove cavolo si trova questa freccia? Ho capito ragazzi Devo guardare per terra Secondo me c'è qualche altro barile nascosto Che non sto vedendo Ho qualche shulker Ho qualche barile Per forza Questo? No Questo posso girare lo schermo Non c'entra nulla Non è che c'è una cesta nascosta qua? Ah no Non sembrerebbe Manca una sola cosa E probabilmente ragazzi Ce l'ho sotto il naso E non me ne sto rendendo conto Oh è sempre così eh È come quando fai un puzzle Ti manca l'ultimo pezzo E non riesci a trovarlo Per nessun motivo No C'era pure l'aiuto Guarda sotto il camino C'è qua Ok manca letteralmente l'ultima candela Questa l'avevo già aperta Qua non c'è nulla Io credo di aver controllato letteralmente tutto ragazzi No Non ho controllato questi Non ci posso credere Ecco Lo sapevo Lo sapevo Bam Si è tirato qualcosa Qua Eccola qua L'abbiamo trovata ragazzi L'ultimo pezzo del nostro puzzle L'ultima candela Inseriamola E dopodiché credo Che dovremmo aver finito Vai Si è aperta la porta Questo suono per caso Significa che si è aperta la porta E sono finalmente libero Di uscire Sì Ragazzi ce l'ho fatta Ho finito questa escape room Mamma mia Ci ho messo più di mezz'ora Ma è stata divertentissima Mi raccomando Lasciate un super mi piace per questo video E soprattutto Preordinate il libro su Amazon Cliccando il link qua sotto nella descrizione O cercando il titolo Dal vostro candela è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao Per caso ti ho già parlato del mio libro? Ah si? E beh allora lascia che te ne parli ancora no? Uscirà il 28 settembre In tutte quante le librerie d'Italia Ma voi ovviamente lo potete preordinare Cliccando il link qua sotto nella descrizione Oppure cercando su Amazon Il titolo del libro Che è Scandal intrappolato nel mondo virtuale Beh io sinceramente non so più che altro dirvi Quindi ciao Comprate il libro